Il segretario della Lega Nord a Matteo Salvini, buonasera, eccoci qui in diretta. Allora, apprendiamo dal calendario delle consultazioni che per voi l'appuntamento è per le 17 di domani, quindi insomma ci andrete, ma lei ci sarà o no? No, sarebbe stato alle 17. Ah, ecco. Sarebbe stato alle 17. Abbiamo altro da fare, nel senso che ci saremmo andati nonostante sia in atto un vero e proprio attentato alla democrazia, nel senso che il terzo Presidente del Consiglio non eletto da nessuno è veramente troppo, neanche a Cuba o in Corea del Nord riescono a fare tanto. Però, nel nome dell'utilità dei nostri territori e della nostra gente, ci saremmo andati. Io ho chiesto personalmente come segretario di partito che la delegazione della Lega potesse essere arricchita però da uomini del territorio, quindi da un sindaco di un comune terremotato, per parlare anche delle esigenze di chi ha il fango in casa e di esenzione fiscale per gli alluvionati, di un Presidente di provincia di Montagna, visto che a Roma di Montagna, di Alpi e della vita difficile che si fa da alcune parti ne sanno poco, e poi di un Presidente di regione, in questo caso del Governatore Luca Zaia del Veneto, un Veneto colpito da disastri, da miliardi di euro e che da Roma aspetta ancora risposte. Insomma, avremmo superato i problemi di forma, di un momento che niente ha a che fare con la democrazia, per portare a Roma non le solite istanze, la legge elettorale, la riformetta X... E questo vi è stato risposto di no, una delegazione così composta... Ci è stato detto che il rito, il cerimoniale, la prassi romana non prevede queste incursioni territoriali, e quindi siccome io faccio politica per rispondere ai miei sindaci, ai miei esodati, agli alluvionati, me ne sto a casa, e quindi vorrà dire che nello spazio della Lega domani qualcuno si berrà un tè, con tutto il rispetto, io ho voluto fino all'ultimo non dare un no pregiudiziale alla grillo, per intenderci, nonostante, ripeto, il PD stia facendo un disastro di dimensioni inennarrabili, volevo andare a parlare di fatti concreti, di problemi concreti, di vita reale, di lavoro, se non si può fare, perché la forma non lo permette, perché la prassi non lo permette, perché le regole romane dicono altro... Lei dite non ci andiamo, però da Renzi ci va Salvini, no? È la prima cosa che ha detto, non appena gli verrà dato l'incaico, lo voglio incontrare. Da Renzi ci vado però a parlare esattamente di queste cose, e quindi spero che la forma di Renzi sia diversa, e quindi io ci vado da Renzi però a parlare appunto delle 160 crisi aziendali, io più che della legge elettorale voglio parlare della Electrolux, della francotosi di Legnano o della invernizia di Caravaggio, quindi da Renzi ci andrò... Quindi da qui dipenderà il vostro sostegno o meno appunto a Renzi, in base agli argomenti che tratterete? Assolutamente, io da Renzi ci vado con il sindaco terremotato, con il governatore del Veneto che da solo mantiene metà del paese, e con un presidente di provincia che supplisce in Valtellina, in Val Chiavenna, le assenze dello Stato. Se posso fare la Lega, se posso parlare di cose concrete anche a Roma ci vado, altrimenti io domani pomeriggio a questo punto invece di atterrare a Fiumicino sarò la mia fiaccolata per la sicurezza a Milano e poi a Pavia e poi a Piacenza. Mi spiace perché fino all'ultimo ci abbiamo provato, però se ci dicono che il rito romano non lo prevede, allora tanti auguri al rito romano, io mi tengo il rito ambrosiano e mi occupo di altro. Va bene, è stato chiarissimo, andiamo oltre però, appunto, come lo vede Matteo Renzi visto che anagrificamente rappresenta comunque una nuova generazione politica, no? Un po' come lei, come a dire, se le chiedesse qualcosa lei darebbe una mano, darebbe il suo contributo? Ma io il mio contributo lo do a prescindere dai colori politici, è un momento in cui la gente non bada alla destra e alla sinistra ma bada alla soluzione dei problemi concreti, quindi se Renzi venisse a parlarmi di ribaltare questa Europa a costo di uscire dall'euro per riprenderci la sovranità sulla nostra moneta e sul nostro futuro, se sull'immigrazione la smettesse con l'ipocrisia della sinistra la Chiang e parlasse di regole certe per tutti, per italiani e per stranieri, e soprattutto se mi spiegasse come intende risolvere le crisi del lavoro, del lavoro e delle tasse, io ci vado. La prima impressione che ha avuto del Job Act qual è stata? Parte male, parte male, questo Renzi parte veramente male, nel senso che ripeto, se non è un colpo di Stato poco ci manca, ormai in Italia la democrazia è sospesa, fino all'altro ieri diceva che mai sarebbe andato al posto di Letta, e pipim, e pipim, e pipim, e invece parte male, parte con l'appoggio delle grandi banche, della grande finanza, di Berlino e di Bruxelles, quindi tendenzialmente a me uomo della strada, se uno parte con l'appoggio delle banche e della finanza, porta poco di buono all'esodato, al pensionato, però detto questo ci andrò, un minuto dopo l'incarico, io come segretario della Lega chiederò di potergli parlare, a patto che si possa parlare anche di montagna, di agricoltura, di alluvioni, di territorio e di esodati, se dobbiamo solo fare fantapolitica, allora lo lascio fare a qualcun altro. E se per esempio, non so, proponesse così, ragioniamo un po', alla Lega e al Ministero dell'Agricoltura, una proposta che accettereste? Ma la Lega gli andrebbe a dire che il Ministero dell'Agricoltura dovrebbe essere sciolto, così come da referendum, e le competenze lasciate alle regioni, che loro devono andare a Bruxelles a trattare regione per regione, realtà per realtà, dalla Lombardia alla Sicilia alla Liguria, a trattare direttamente con Bruxelles per riportarci a casa la nostra agricoltura, quindi questo è proprio il ministero che in un governo serio non dovrebbe più esistere. Tra poco, fra l'altro, ci andremo a Bruxelles per sentire un po' che aria tira, l'accoglienza che viene data a Matteo Renzi. Ci diciamo che... Beh, ma Renzi arriva lì per scelta di Bruxelles, non arriva lì per caso, dopo Monti e dopo Letta, Bruxelles ha scelto Renzi, e se Bruxelles sceglie qualcuno, vuol dire che la fregatura, temo che sia dietro l'angolo, perché Bruxelles per l'Italia e gli italiani significa solo disoccupazione, fame e sfiga. Beh, sappiamo benissimo qual è il vostro punto di vista sull'Europa, appunto, sulle politiche europee. Ci diciamo anche un'altra cosa. Voi lo dite, no? L'ha detto anche lei poco fa. Voto subito, elezioni subito. Secondo lei, Renzi, ci vuole davvero arrivare al 2018 oppure si vota prima? Si farà in modo di andare a voto prima? Ma secondo me questi drammaticamente non sanno che cosa fare domani mattina. C'è il PD che attacca il PD, che sfiducia il PD, che chiede la rifiducia al PD e che si confronta col PD e che litiga col PD. Di mezzo c'è un paese, ci sono 160 crisi aziendali ferme sul tavolo romano del Ministero dello Sviluppo Economico. Ferme, da mesi. Ci sono i 400 operai della Franco Tosi di Legnano che se ne fottono della legge elettorale e vogliono una risposta da Roma. Ah beh, questo lo sappiamo, lei lo ha detto da sempre, non è la priorità. No, lo facciano in fretta. In democrazia si andrebbe a votare. In democrazia se cade un governo, normalmente si vota. Però in Italia ormai mi sembra di essere in Corea del Nord. Senta, tornando invece ai ministeri e poi davvero fra poco la salutiamo, ma rinuncereste e rifiutereste qualsiasi ministero? Sull'agricoltura già ce l'ha detto. Ma figurarsi non ci interessa nessun ministero. La nostra disponibilità a parlare con Renzi non prevede posti di governo o di sottogoverno. La nostra disponibilità è sui fatti concreti. Se vogliamo parlare di abbassamento dell'IRAP, noi ci stiamo e votiamo quel provvedimento. Se vogliamo parlare di ridare i soldi ai comuni, i comuni che sono derubati da nord a sud e dallo Stato centrale, ci stiamo. Oggi c'erano a Roma i 4 mila lavoratori della Croce Rossa italiana che rischiano di finire a casa perché qualcuno pensa di svendere un patrimonio di storia, di palazzi e di soccorso pubblico. Ebbene, se parliamo di cose concrete, noi li votiamo questi provvedimenti. Se arrivano in Parlamento provvedimenti intelligenti, noi dall'opposizione li votiamo. Però lei sa che cosa c'è all'ordine del giorno del Senato di settimana prossima? C'è lo svuota carceri e il salva Roma. Secondo lei io come Lega vado a votare lo svuota carceri e il salva Roma. Ma io faccio la guerra contro lo svuota carceri e il salva Roma. Va bene, è stato molto chiaro Salvini, come sempre a solito. Ci conferma dunque che se non approvano la delegazione che voi volete mandare a Roma domani alle 17, quella porta non si aprirà in un verso né nell'altro. Dovrete mandare la pubblicità a malincuore, perché io ci sarei andato, ripeto, io ci metto la faccia. Però non a fare una visita di cortesia o a bere un caffè col presidente napolitano. Io ci sarei voluto andare a parlare di nord e di lavoro. Ma non può essere l'occasione davvero per dire qualcosa proprio a Giorgio Napolitano? Eh ma guardi, se non mi fanno andare in compagnia della gente che mi rappresenta sul territorio, che si sporca le mani in mezzo al fango e che risponde ai problemi di Belluno e di Vicenza, che è sott'acqua e sotto la neve, cosa ci vado a fare? Abbiamo altro da fare. Nel senso che ci saremmo andati nonostante sia in atto un vero e proprio attentato alla democrazia. Nel senso che il terzo presidente del Consiglio non eletto da nessuno è veramente troppo. Neanche a Cuba o in Corea del Nord riescono a fare tanto.